Raga, siamo qua col caro totone nazionale, eccolo qua Sono... Pocchi Noni siamo qua al park Andiamoci a prendere un bel caffè Dobbiamo fare le sfine perché c'è il totoday today Beh raga, iniziate innanzitutto con mettere un bel like, iscrivetevi Seguitemi su Instagram Vi vedo che non mi seguite su Instagram, schifosi Perché avete tutte le preview in anteprima Le preview in anteprima Bellissima, questa mi piace La rimanco nel video Ragazzi siamo al Vittoria Park Non c'ero mai venuto Park super figo Ci siamo, vicino a Bergamo Brembate No, non siamo a Brembate No, siamo a Brembate Ok, dislessia on Siamo qua perché appunto Toto ha stretto la nuova collaborazione con Vittoria Tire E quindi stiamo facendo il Totoday Per niente mi hanno regalato il park ragazzi Quindi tutto questo come vedi tutto scherzo Un giorno sarà tuo Quindi oggi faremo un po' di sfidine, best trick, eccetera eccetera È un pre-party ride praticamente questo Perché vi ricordo che anche quest'anno faremo i party ride E ci saranno un botto di più di tappe Questo è solo tipo un assaggino per i pochi eletti Perché c'erano i post limitati qua Esatto, quindi raga venite a fare un giro oggi Ora, ma allora, quanto cazzo stai andando? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Raga ma guardate veramente l'immensità Codè sto posto Senti Dove dormi nuovo Madonna che roba immensa Ciao Pescheria! Come al solito tutto ha molto senso E niente, quindi adesso abbiamo fatto un po' di warm up Si va a fare il best whip sui panettoni E se ne vedranno delle belle Do people oggi, eh? Che sarà il best whip sul secondo e terzo panettone Molto semplice Una sfida in amicizia Chiaramente non vale atterrare a 90 gradi Fuppate e gasatevi Fate un po' di casino Vediamo se qualcuno esplode o se sopravvivono tutti Voi? bella madonna incredibile vivo com'era la tua faccia quando l'hai visto? vienne salmone aceti mi sei passato zio nooo che paura che paura non voglio più giocare vai alboretto 2 gradi per l'alboretto e vince non vale atterrare a 90 gradi tante belle convulsioni molto bello divertente e ci sta vai luca dai che dopo scoppia vai tranquillo le bolle bella madonna dove fa bro ma che c***o dici che male i cambi fa male qui dentro qua Leo Lomax Matteo Nervi e Luca Cada un applauso per Luca Cadarin Matteo Nervi Leo Lomax e giudica la test whip allora è sfida a tempo chi va più piano quindi chi ci mette più tempo vince bisognerà prendere la posterina qua al North Shore stretto passare a sinistra quindi fare quello più stretto quindi dovete arrivare fino in fondo se scendete prima eliminati ma qui è difficile bravo trialistica e Giame si può innanzitutto non voleva grindare in realtà no 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 vai di là oh 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 Ah, ah, ah! Sto prendendo l'equilibrio! Eeeh! Io ho detto! Tutti un po' ubriaci! Bravo! Nooo! 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 Controllo! Presenza! Nooo! 8 secondi! Prima completarla! Ero un po' l'invenzione! Attenzione! Monta io! Eeeh! Grazie! Oh! Attenzione! Ehi! Assolutamente no! Non vola Ico! Nooo! Non vola! Non vola! Non vola! Nooo! Non vola! Non vola! Nooo! Fast as fuck, boy! Ha tentato l'eliminazione del fotografo anche! Ehi! 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 Impressione! Adete? Io... Uno! Tutte le due due. Tu mi ha detto che è un insegnante ragazzi! Nooooo! Male! Eruma dai! Daieruma dai! Eruma dai! Eruma dai! Ehi! Ma ti faccio... Ehi! Nooo! Chi fa! Eh! Niente! Vieni! 14.24 Lorenzo voglio un applauso gigante 20 secondi non ne ricordo quanto Si gasa e oggi si diverte E mo se magna Su pausa cibo ci scassia un bel paninollo Dopo si ritorna fuori a fare tutte le super sfide E siamo accetti No ma che c***o di atterraggio era Pure la foto stampata addirittura Alboreto Alboreto Incredibile Neanche lui se l'aspettava Attenzione Attenzione Quando l'ho fatto io a Cash Però adesso non mi ha cagato faccio di merda Abbiamo obbligato a Mlie Fare l'apertura del best trick Adesso iniziamo raga Apriamli Pronti 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 È partito Oh mio dio Morto Vai cesta Flip Flip Vai c***o Oh mio dio È morto Come voleva si dimostrata Una patata vivente Ho sentito dire una cosa bella Fronni dalla rampa piccola Fronni dalla rampa piccola Con quegli occhiali A 200 all'ora poi Non era quello che volevo fare ovviamente Io li sento che non reagiscono Raga dovete un po' incitare però la gente Se no i trick non vengono fuori eh Dai su Dai Flipp Non l'ha mai fatto Madonna mia Salvataggio della vita No Oh mio dio Che esplosione accartocciata I manubri in bocca tipo Dai bro Oh gasatissimo No Mille Mille Se gli entra mille andiamo a cada tutti con il c***o spanato Fagli vedere a Fredrickson come si fa Incredibile Non ci crede neanche lui Ivo Ivo Lui ma non vuole c***o Tira Non tira Oh papini andiamo a casa raga dai andiamo a c***o Ho visto cadere ho detto che faccio che faccio lo chiudo cartello anch'io Me l'ha fatto apposta apposta quasi Ragazzi si è visto un livello veramente alto secondo me sul vostro trick Il terzo classificato abbiamo dovuto veramente discutere tanto perché non riuscivamo a dare un giudizio Francesco Pina e Ivo Pasquettino a pari veri Francesco Pina e Ivo Pasquettino a pari veri Niente raga quindi la giornata si conclude così in freschezza è stata una giornata molto figa Come vi ho detto Toto ci saranno i party ride a breve quindi state gasati state pronti perché ci sono 5-6 tappe Quindi tanta roba e ci troveremo in tutte le tappe Tanto il nanetto infame qua dietro ha vinto tipo tutto non vale Fino alla prossima